Allora come prime due abbiamo Isotta e Francesco, Isotta ama essere circondata da persone con lingue e background culturali diversi, questo mi hai detto, ok? Dall'anno scorso contribuisce a tempo pieno alla comunità di WordPress e supporta gli organizzatori di WordCamp e Meetup in tutto il mondo, le ci sono voluti alcuni anni ma mi ha detto che finalmente non ha più paura di tutte le opzioni e pop up dello dashboard di WordPress, dunque finalmente. Allora poi abbiamo Francesco, il mio amico Francesco, ci conosciamo già da un po', lui è venuto dalla Puglia per essere qui oggi, dunque grazie Francesco, hai iniziato 14 anni fa ed uno dei membri molto attivi della comunità WordPress italiana e anche europea, partendo da WordPress negli ultimi anni si è esteso alla condivisione di informazione digitale per le agende. Allora il talk, parlare di diversità è un argomento delicato, siamo tutti d'accordo su questo e per ognuno vuol dire una cosa diversa. Con il loro talk impariamo insieme a come apportare piccoli cambiamenti che avranno un impatto forte e positivo sulla nostra comunità, azienda e sulle altre persone che fanno parte della nostra vita. Isotta, Francesco, the floor is yours. Grazie. Grazie. Ci sono? Buongiorno, benvenuti, grazie a tutti quanti. Quando circa un mesetto fa, no più di un mesetto fa, un paio di mesi fa Isotta mi ha proposto di fare questo talk insieme, io ho accettato subito, mi aveva già parlato più o meno di che cosa avesse voluto parlare e io sono stato contentissimo che mi abbia coinvolto in questa cosa qua. Oggi vedremo come le differenze nelle community e nelle aziende possono valorizzate correttamente, possono migliorare gli ambienti di lavoro, possono migliorare la produttività, possono diventare dei plus per il nostro lavoro e per tutto quello che noi facciamo nella nostra vita. Vedremo delle differenti tipologie, parleremo... Voilà. Bravissimo. Grazie. Tu mi devi aiutare però. Partiremo parlando di cos'è la diversità, definiremo la diversità e il contesto nel quale lavorativamente e nelle community la diversità avviene. Parleremo di cos'è la diversità nella comunità di WordPress, nella nostra comunità, nella comunità che ci coinvolge tutti. Quando e perché le aziende investono sulla diversità, perché anche per le aziende diventa importantissimo investire nella diversità, come una leadership diversa rende le persone nelle aziende e nelle community migliori, quindi l'importanza di avere anche in azienda e nelle community una leadership diversa. Analizzeremo quattro casi reali tra fallimenti e successi, vedremo un po' di numeri, non sarà noiosissimo i numeri, però i numeri sono importanti anche perché danno il peso di come piccole azioni cambino a lungo termine le nostre prospettive lavorative e anche di comunità. Ah ok, poi arriveremo alle conclusioni, benefici e consigli pratici e poi tutti quanti noi dovremo essere coinvolti in questo viaggio verso il cambiamento e verso la diversità e l'inclusione, sia, ripeto, lo ripeterò sempre in questo talk, sia nelle community che nelle aziende. Voilà. Grazie mille Fran. Ci piacerebbe iniziare con una domanda, proprio come diceva Pascal, è un argomento delicato e viene percepito in modo diverso da ogni persona, per cui vi invitiamo a una riflessione e chi se la sente a darci una risposta concisa su che cosa è la diversità per voi, che cosa significa o come la sperimentate nella vostra azienda o nella vostra comunità. Se qualcuno se è l'assente? Sì. E stare aperti. Perfetto. E qualcun altro? E per accettare comunque, a prescindere dal genere o da qualsiasi tipo di discriminante che possa essere, qualsiasi tipo di cosa che sta benvenendo. Non crede, diciamo, forse la risposta più definitiva sulla deconcisa è vedere il tipo di evitare qualche cosa più difficile. Perfetto. Grazie Matteo. Sì. Prego. Riconoscere che le differenze esistono. Perfetto. È un buon punto di partenza questo. Senza... Sì, allora, è giusto perché sennò non vanno nella registrazione le risposte. Abbiamo avuto una persona che diceva la diversità è rimanere aperti. Poi evitare il giudizio, riconoscere che esistono le differenze. E poi è fantastico perché noi c'eravamo preparati. Franco, se nel caso in cui nessuno volesse avesse risposto, Franco aveva anche la sua risposta preparata. Abbiamo un backup. Pascal. Sì. Avevamo un backup. E in effetti quando mi hanno chiesto cos'è per te la diversità è stato difficile rispondere. Per me è un arricchimento culturale. Io faccio il volontario, soprattutto a livello europeo, però anche per me Torino è diversa, proprio per conoscere persone di altre culture. Noi abbiamo in azienda persone non italiane, contocorrente con l'attuale andamento usiamo l'inglese il più possibile. Fra di noi c'è chi parla meglio l'inglese che l'italiano. Quindi per me è arricchimento, assolutamente. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti quanti. Effettivamente tutte le risposte che ci possono venire in mente sono valide. La cosa che adesso andremo a analizzare insieme sono le più grandi categorie, le categorie più facilmente riconoscibili di diversità e soprattutto il messaggio importante per me Francesco da passare oggi è che questo è un discorso importante da fare aprire senza aver paura di dire la cosa sbagliata o pensare mamma mia se do questa risposta allora poi chissà che pensano di me. No, tutti abbiamo esperienze di vita diverse, sono tutte valide, più ne parliamo meglio possiamo costruire e migliorare la società intorno a noi e anche crescere. Per cui iniziamo a vedere alcune delle diversità più facilmente riconoscibili. Per diversità si intende la verità di differenze che esistono tra individui, tra gruppi di persone e tra comunità. Tra le più facilmente riconoscibili ci sono le etnie e le culture, il genere e l'orientamento sessuale, le abilità fisiche e le abilità mentali. Adesso tocca a me. Possiamo fare entrami, siamo preparati bene. Tra queste tipologie di diversità a volte si rimane anche sorpresi dal vedere che per esempio ci possono essere anche differenziazioni sull'età perché uno pensa subito all'etnia o alla religione, però anche l'età è qualcosa da prendere come diversità. Quindi anche in funzione di quanti anni ha una persona può essere preso come un plus da utilizzare nella comunità o nell'azienda. Quindi età, religione, la lingua e la lingua ci dà anche una grande valenza, come diceva Franco appunto, nell'imparare dagli altri. E anche gli studi e la professione perché anche persone che hanno background culturali differenti, sia per studio che per professione, danno un plus. E qui mi inserisco su una cosa. Ancora di più nella nostra comunità o nel tipo di attività legate al mondo di internet, al mondo di Wordpress, il fatto di aver avuto una carriera di studi inizialmente che non ha nulla a che vedere con il mondo dell'informatica, il mondo di internet, adesso è un plus. Quante persone hanno fatto una transizione da un mondo a un altro e queste persone arricchiscono la comunità, arricchiscono l'azienda, portano dei punti di vista diversi che persone con lo stesso identico background non avrebbero. Perché siamo sempre il stesso tipo di persone, è difficile anche avere idee nuove, punte di vista nuove. Mi viene in mente anche, ne parlerò più avanti perché uno dei casi di studio che citeremo aiuta proprio le persone a cambiare nella propria professione, ma mi viene in mente anche ieri chi è stato di voi al Contributor Day, lo diciamo sempre quando facciamo il Contributor Day, non c'è bisogno che siate dei programmatori. Uno dei team più grandi in Wordpress è Polyglots, dove non c'è necessità di essere programmatori, anzi forse il più grande team per i Contributor Day, e lì basta che tu abbia voglia e sappia tradurre, entri in una comunità che ti accetta anche se tu non sei un programmatore. Oltre alle differenti tipologie di diversità ci sono anche... Stavo smontando tutto. Per ognuno di noi, quando affronta la diversità ha delle priorità, cioè vede la diversità con delle differenti priorità. Io mi posso accorgere prima di qualcuno che è differente da me perché ha una vicinanza geografica con questa persona, e quindi mi sento più coinvolto nell'essere vicino o nell'accettare questa persona. Una vicinanza affettiva, qualcuno che fa parte del mio nucleo familiare o qualcuno del quale io mi innamoro o una persona che semplicemente divento amico, mi fa capire più facilmente, mi fa comprendere più facilmente, mi fa avvicinare a questo tema. Il trend non è una cosa negativa, ci sono dei trend che portano a comprendere meglio il perché. Persone differenti ci danno un vantaggio nel nostro lavoro o nella nostra vita quotidiana. Non è da prendere in maniera negativa la parola trend, però anche i trend, se servono alla causa, devono essere analizzati e funzionano. E poi per esperienza diretta, quindi ognuno di noi può avere un'esperienza diretta di come ha avuto contatto o si è trovato coinvolto in situazioni in cui la diversità è diventata un pregio, è diventata un plus. O una difficoltà, che dal passare a essere la persona che fa parte della maggioranza, qualsiasi sia il tipo di maggioranza, in un contesto, si sposta in un altro contesto, automaticamente quella persona diventa la minoranza. E allora incomincia a farsi delle domande su come, nel contesto in cui quella stessa persona rappresentava la maggioranza, altre persone si sarebbero potute sentire. Voilà, è mia. Eh sì, ce n'è un sacco. Ce ne eravamo divisi all'inizio, ma ora è saltato tutto. Allora, vediamo come nella community di WordPress noi ci occupiamo e implementiamo la diversità. WP Diversity è un progetto che si preoccupa proprio di coinvolgere le persone che fanno parte di minoranze e quindi tenerle dentro e prendere da quelle minoranze le cose che possono portare un vantaggio per WordPress. Penso a persone che provengono da culture diverse, penso a persone che, più parlavo di lingua ma più avanti abbiamo le traduzioni, quindi... Parliamo della comunità LGBT... Parliamo di comunità che, diciamo, sono inerenti agli orientamenti sessuali. Prego. No, non ero preoccupata di cosa ti sarebbe potuto uscire. Lei ha una paura di quello che io posso dire, ma le ho assicurato che sarò tranquillo. Chi mi conosce... Sono perfettoso. Sì, sono... No, no, ma fai i libri. Ma nelle slide è venuto fuori che sono anche responsabile del Code of Conduct, quindi figurati. Cioè, devo essere perfetto. Chi mi conosce, Cristiano, lo sa. Ti sei avvicinata? Ho avuto paura quando ti sei avvicinata perché pensavo mi stessi dando uno schiaffo. Poi abbiamo Learn, che è un progetto relativamente nuovo, nel quale la community di WordPress si preoccupa di creare contenuti che servano ad imparare WordPress meglio. Quindi è la stessa community che prepara contenuti affinché la gente più disparata si possa avvicinare a contribuire al mondo WordPress, a imparare a utilizzare WordPress. Questo è un progetto interessantissimo che serve per fare in modo che quanta più gente possibile si avvicini, quanta più gente possibile più differente si avvicini. Vabbè, la community, la nostra community è per forza di cose aperta. L'abbiamo detto anche prima, non c'è bisogno di nulla. Vi scrivete lo Slack e siete dentro, quindi anche questo, nativamente la nostra community accetta la diversità. I talk, anche i talk, questo è un esempio di come noi siamo impegnati nel propugnare il fatto che la diversità sia importante nella community e poi le traduzioni. Le traduzioni, la porta d'ingresso è stata per me quella nel mondo della community di WordPress perché più traduzioni ci sono, più gente è coinvolta nel lavoro con WordPress e nel lavoro per WordPress. Ci sono traduzioni anche in lingue misconosciute di minoranze che altrimenti non avrebbero possibilità di lavorare con WordPress e questa è una cosa molto molto importante. Adesso saltiamo alla parte business e andiamo a vedere perché attualmente sempre più aziende abbiamo deciso di investire sulla diversità, con azioni specifiche. Ci possono essere per vari motivi, grandi gruppi sono a radice di scelte etiche perché anche la mia opinione personale è giusto fare così, dovrebbe essere l'unica via, l'unico modo. Anche per interesse economico perché sempre di più ci sono fondi anche a livello fondi stanziati a livello europeo o fondi statali per programmi che si concentrano sulla diversità. Per reputazione perché il mondo sta cambiando, in tutto il mondo le persone alzano la voce e stanno dicendo che sono argomenti importanti e sono delle cose che sia clienti sia collaboratori cercano nelle aziende. Questo si collega direttamente a quello che dicevamo prima alla moda, cioè alla fine le aziende lo scelgono per etica, è giusto, ma anche perché ne cresce in reputazione, quindi io posso essere più interessato ad acquistare prodotti o servizi dalle aziende che investono nella diversità. Quindi perché no, perché non investire in questo? Quindi la reputazione è una cosa importante, lo dicevo prima quando ne discutevamo, l'importante è che si faccia la cosa, l'importante è che si investa sulla diversità. Prego, scusami. E poi la visibilità va da sé, perché visto che adesso se ne parla tanto, ci sono alcuni tipi di azioni che sono più di moda, che sono più coperte dai media e la gente ne parla di più, si diventa più visibili. Nel nostro punto di vista, la ragione per la quale, scusa, sto prendendo anche delle tue slide, poi ce le riprendiamo, la ragione per la quale per noi è importante che ciascuna persona qui presente oggi decida di investire all'interno della propria community, della propria azienda, sulla diversità, è perché voi siete leader della vostra comunità e quello che fate voi dà l'esempio a tutte le persone che vi seguono, ancora più delle opinioni che potete condividere, i discorsi che potete fare, se iniziate a compiere degli azioni, la gente vi segue, perché siete leader, quindi quello che fate voi dà l'esempio a tutti gli altri. Perché è molto importante che ci sia una leadership diversa? Perché innanzitutto porta innovazione e creatività, perché se la leadership per prima fa parte di una minoranza, questo porta all'interno di una maggioranza delle idee, dei modi di pensare, dei modi di agire completamente diversi e quindi porta un plus in innovazione e in creatività, perché fa in modo che le persone che non sono, non fanno parte della leadership, si sentano comunque appartenenti a quel gruppo, quindi se io sono una persona che fa parte di una minoranza e mi accorgo che nella mia community, nella mia azienda, si investe e soprattutto c'è una leadership diversa, mi sento di appartenere meglio a quella community, a quel gruppo di persone e poi mi identifico anche in quella leadership, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io, mi accorgo che le mie necessità, i miei bisogni vengono presi in considerazione, potrebbero essere presi in considerazione meglio, perché no, perché quella persona appartiene alla mia stessa minoranza e questo mi porta a impegnarmi di più, a lavorare di più, ad essere più produttivo, perché ho più motivazione per arrivare magari un domani ad essere io un leader di quella community o di quell'azienda, portando le istanze del mio gruppo, della mia minoranza. Anche perché una cosa che succede, succede in tutte le minoranze di qualsiasi tipo siano, molte persone che fanno parte di gruppi sotto rappresentati, cresce dentro di loro un senso di non appartenenza ai gruppi di leadership, perché se io vedo che, facevamo questo discorso ieri con Franco, per esempio, perché io casualmente a volte lancio lì il fatto che mia moglie sia qui, magari a me non cambia niente probabilmente la mia vita, a lui non cambia niente, ma ci sono tante persone che fanno parte della comunità LGBT che credono di non essere abbastanza, perché sono sempre stati esclusi, perché non hanno mai avuto nemmeno l'idea di poter sognare di diventare speaker, per esempio, nonostante magari abbiano una famiglia fantastica, ma questi sono secoli di minoranza e di esclusione dalla società e dalla leadership. E quindi il fatto di farlo notare e io prendermi visibilità e far sapere alla gente che magari non mi viene nessuno, o magari qualcuno mi sta venendo adesso, o magari qualcuno lo vedrà su WordPress TV e dice ah, ok, ma allora lei lo fa, lo posso fare anch'io. E questo funziona così per tutte le minorie. Adesso passiamo a farvi vedere dei casi reali, e farà dobbiamo anche accelerare il ritmo. Sì, siamo... Scusa, perché parliamo un sacco io e lui. Salto tutta la parte mia. Adesso questo è un caso reale di fallimento. Probabilmente molti di voi lo conosceranno, perché è un caso molto comune, molto vicino alla comunità di WordPress. Si tratta dell'azienda Meetup. Meetup.com è la piattaforma che tutti usiamo nella comunità di WordPress per organizzare gli eventi mensili, i Meetup. Che cosa è successo? Meetup.com, invece di investire sull'accessibilità in house, quindi avere un team esperto di accessibilità, avere degli sviluppatori professionisti su accessibilità, si sono appoggiati a delle aziende, a delle aziende esterne, e per, in teoria, rendere l'esperienza dell'utente, migliorare l'esperienza dell'utente nelle proprie pagine, hanno... la faccio facile e corta... hanno inserito una feature che dovrebbe, avrebbe dovuto aiutare le persone che utilizzano i lettori di schermo, che invece che aiutarli ha peggiorato completamente, ha distrutto l'esperienza. E cosa è successo? Allora, che è stato presentato, è stato presentato, è stato lanciato, senza nemmeno consultare le grandi comunità che fanno parte di Meetup.com, è stato lanciato questa feature. È scoppiato un caos, le persone si sono... hanno protestato, la comunità di WordPress è fatta sentire tantissimo, e dentro la comunità di WordPress c'è anche un team che si dedica all'accessibilità. Abbiamo avuto... il community team ha avuto riunioni con Meetup.com, loro hanno deciso di fermare tutto, ritornare indietro, e ricominciare a provare a trovare un'altra soluzione. Questo si traduce in una perdita a livello economico, di tempo, di risorse e di reputazione allucinante per Meetup.com. E tutto questo sul blog di WordPress lo potete vedere. Poi abbiamo un esempio che tutti quanti conosciamo. Dal 2014 il nuovo CEO di Microsoft è Satya Nadella, che non è americano, ha delle ascendenze asiatiche. Lui ha fatto in modo, con un programma che si chiama Global Diversity Inclusion Report, di migliorare, aumentare la percentuale di persone diverse nell'azienda, in Microsoft. Una cosa molto importante, se voi scaricate questo report, che viene prodotto ogni anno da Microsoft, lui lo dice apertamente, nel report di quest'anno lo dice in apertura, abbiamo questo impegno, ci sono dei numeri molto importanti, addirittura si parla di un aumento delle donne che ogni giorno, ogni anno che passa è più dell'1%, di persone nere, africane, americane, di oltre l'1%. Noi lo facciamo perché la diversità ci porta migliorie al nostro interno e lo rendiamo pubblico, è trasparente, il report è oltre 30 pagine, è molto fitto di numeri, ogni minoranza si sente rappresentata in quei numeri, hanno addirittura un programma di inclusione per le persone disabili, non addirittura, hanno un programma di inclusione per le persone disabili e ne parlano apertamente, lo rendono pubblico, è ciò che diceva prima Isotta, se io ne parlo in maniera così, rendendolo pubblico, la rendo una cosa facile per tutti, raggiungibile per tutti, lo fa Microsoft, perché non lo dovrebbe fare ogni azienda? Quindi lui ha fatto un investimento che gli ha portato un aumento, perché Microsoft non fa beneficenza, fa business, quindi gli ha portato un aumento dei guadagni e ci sta bene questo. Un altro caso è stato quello di Airbnb, che ha differenti programmi mirati, ma tra quei tre, diversity and belonging, nel quale loro si impegnano con investimenti, a fare in modo che sempre più persone provenienti da minoranze siano dipendenti, mi ha colpito molto Open Doors, praticamente la, non mi ricordo qual è l'università, l'Harvard, credo, ve lo dico subito, sì, l'Harvard Business School, che cosa ha fatto nel 2016? Ha creato dei profili su utenti di Airbnb con nomi afroamericani, profili falsi, fake, e hanno provato a prenotare Airbnb con questi profili fake, bene, la percentuale di persone che hanno rifiutato la prenotazione è stata circa il 16%, quindi Airbnb si accorta di questa cosa qua, Harvard Business li ha informati e loro hanno fatto partire dal 2016 un programma mirato nel quale gli host di Airbnb sono obbligati, prima di essere accettati, a firmare un accordo nel quale dicono che non faranno discriminazioni sul nome, loro hanno fatto discriminazioni addirittura sul nome, quindi immaginate, senza sapere esattamente chi ci fosse dietro quel nome, sono stati discriminati. Airbnb ha investito in questo e il ritorno è comunque un ritorno molto importante, è chiaro che non è solo dovuto a questo, però gli investimenti, questi programmi mirati che Airbnb ha messo su, hanno portato a questo, a un ritorno importante. Prego. Adesso passiamo a un caso molto più vicino, facile perché magari uno può dire ok, Microsoft e Airbnb sono aziende giganti, andiamo a un caso più terra a terra. La squadra di palacanestro è la nostra città, della città da cui veniamo noi. Fino al 2016 non c'era un team, non c'era una squadra femminile e mia nipote, a sei anni, voleva iniziare a giocare. Che succede? Che è arrivata lì, non c'erano altre bambine, per lei non era un problema e la società invece di crearsi il problema di oh no, aspetta, come facciamo a fare le squadre, eccetera, eccetera, ha detto ma se non ti dispiace, altre bambine non ce n'è, vieni e giochi con i bambini. Lei perfetto, ha iniziato, le sue amiche di scuola hanno visto che lei giocava basket, allora ci gioca azzurra, andiamo anche noi. Cosa è successo? Che l'anno dopo c'erano già 4-5 bambine iscritte, nel 2022, ovviamente c'è stato uno stop per il Covid, nel 2022 le bambine di 6 anni nel 2022 erano già un numero sufficiente da avere una squadra intera. Immaginatevi le iscrizioni, come sono salite per questa squadra, per essere stati aperti a considerare una scelta diversa da quella che era stata fino a quel momento. Siamo fuori tempo già, quindi il timer è saltato. Le possiamo condividere, insomma era importante sull'aumento della produttività per tutti i motivi elencati prima, spiegati prima da Francesco, i team diversi sono più produttivi e gli esseri umani adesso vogliono parlare di diversità, ci interessano più le aziende che investono in università ed è un discorso importante. Da dove vai tu? Sì, allora da dove iniziamo? Innanzitutto, prima è stato importantissimo quello che ha detto Stefano, prendere atto della diversità, quindi autoriflessione, quindi essere noi per primi a capire che c'è diversità in giro. Parlarne, non avere timore di parlarne. Per quanto riguarda le aziende, impegnarsi ad assumere persone che siano differenti, differenti etnie, differenti orientamenti sessuali, differenti religioni e una cosa molto importante è, almeno all'inizio, creare degli spazi protetti dove le persone si possano sentire a proprio agio. Non immediatamente, cioè avere degli spazi protetti dove chiunque fa parte di una minoranza comunque possa sentirsi protetto, appunto, non abbia timore a parlare, non abbia timore ad esprimersi. Ti prego. Sì, un esempio di spazio protetto perché magari non tutti lo sanno. Se, per esempio, in un'azienda c'è una minoranza di persone latinoamericane, allora dire, ok, se volete organizzarvi il vostro gruppo di incontro il mercoledì a quest'ora per voi, per svolgere la propria attività, fatelo. Così anche se il gruppo LGBT sono dei momenti, le minoranze spesso hanno bisogno di sapere che sono uno spazio protetto solo con persone che appartengono alla propria comunità per costruire più confianza, mi viene in spagnolo, più fiducia, grazie, più fiducia in se stesse e poi portare questa fiducia fuori nell'ambiente non protetto. Lì abbiamo tutta una cosa di benefici, un elenco di benefici e consigli pratici, quello più importante è l'ultimo perché è la cosa giusta da fare, ciò che dicevi sotto prima è etico, tutto il resto è qualcosa che porta al fatto che è la cosa giusta da fare, l'augmento del rendimento, la reputazione migliore, un ritorno sull'investimento, ma è la cosa giusta da fare. E adesso tocca a voi, cosa vi portate a casa, cosa farete lunedì al lavoro e come cambierete la vostra comunità? Queste sono le domande che ci sono venute di getto quando abbiamo scritto questo talk e ve le vogliamo girare perché devono essere la base per voi per quando tornerete a casa, per cosa farete, per mettere in pratica le cose che ci siamo detti oggi noi, tutti quanti. Ci sono alcune risorse, le slide saranno condivise successivamente per tutti, ci sono alcune risorse dal quale noi abbiamo preso spunto e mi piace per chi c'era al meetup, al World Camp di Catania nel 2019, Giulia è una persona che fa parte della nostra community e ha fatto un talk molto interessante sulle donne nella programmazione, era chiamato programmazione femminile singolare e dice c'è bisogno di persone che diano ispirazione ed esempio. È un talk molto interessante, nei link che vi ho fatto vedere prima c'è il riferimento, vi consiglio di andarlo a vedere. Questa è azzurra. È un altro esempio di essere i primi, fare il passo coraggioso, non avere paura di essere la minoranza, ti può poi portare a diventare la maggioranza. E poi chiudiamo qui. Basta, dimostriamo coraggio, diamo l'esempio, creiamo una società migliore, questi siamo noi due a Roma 20 giorni fa. Ci possiamo mettere nella stessa posa. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Isotta, grazie Francesco.